Anche in Sicilia oggi e domani si rinnova l'appuntamento con le giornate fai di primavera, cioè il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico nel nostro paese. Una 31esima edizione, quella ideata dal Fondo per l'Ambiente Italiano, che offre l'opportunità di scoprire e riscoprire insieme ai volontari della Fondazione e agli aspiranti ciceroni, cioè ai ragazzi delle scuole dei tanti paesi e città siciliane, tesori di storia, arte e natura solitamente inaccessibili o poco conosciuti. 750 luoghi in tutta Italia, 70 in 28 città siciliane. Siamo andati a Catania per il grand tour dal giardino di Gaeta alla balconata del Palazzo Biscari, poi Palazzo Scuderi nel cuore della città. Quindi ancora le apprezzate tavole, parliamo di fumetti, d'arte, di Simone Bianchi. Siamo alla 31esima edizione, tantissimi siti da visitare a Catania in provincia. Superiamo la ventina, aperte chiese, edifici pubblici, ma anche negozi storici. È una chicca, quest'anno apre solo per il FAI e solo sabato la gioielleria Avolio. Io ringrazio la proprietà, i fratelli Vincenzo e Esther Avolio, che hanno consentito ai nostri giovani ciceroni, ma anche a chi ha voluto fare la tessera e sostenerci quel giorno, di aprire le porte di questo splendido negozio storico. Esther e Vincenzo Avolio sono i discendenti della famiglia Avolio, che diede i Natali alla storica gioielleria. Nella seconda parte del 1800 c'è una cassaforte davvero particolare, non solo perché è installata nel 1913. Questa cassaforte viene da Vienna, ci si domanda come mai da Vienna. Molto probabilmente la storia che noi abbiamo, che ci hanno insegnato del regno delle due Sicilie, è meno romantica del tutto, perché i regni, le dominazioni e quant'altro venivano creati non già per un fatto romantico o guerresco, ma per motivi commerciali, come l'Unione Europea. Quindi all'interno del regno delle due Sicilie, e sappiamo di che cosa era il regno delle due Sicilie, noi probabilmente scambiavamo arance e frumento contro cannoni e cassaforti. Da Catania, da Cireale, le giornate fa di primavera offrono anche l'apertura del seminario vescovile. Il Fondo Antico, che appunto è uno scrigno di cultura, di arte, di storia, e contiene e conserva libri che hanno veramente tantissimo interesse, manoscritti, cinquecentine, quindi opere che in realtà sono uniche. È una cappella davvero particolare, perché? È particolare perché è stato il dono della diocesi al seminario, ed è stata edificata tra il 1936 e il 1940, quindi negli anni precedenti alla guerra. È una storia tutta sua, perché è stata pensata nei minimi dettagli, nei minimi particolari, con questo colore rosso che esprime l'amore appassionato di Dio, l'amore del figlio di Dio, di Gesù, e infatti è dedicata al sacro cuore di Gesù. Grazie. Grazie.